La banda del Bancomat, che colpisce spesso il venerdì sera, quando la cassa alimentata di banconote per il fine settimana, è tornata in azione. Alle tè di notte ha fatto esplodere, utilizzando la tecnica della marmotta, lo sportello automatico ATM dell'ex Carifano, oggi Creval, in piazza Matteotti, nel centro di Saltara. Gli ingenti danni alla struttura, un piccolo ambiente di 6 metri quadrati senza filiale o uffici, nel quale un tempo c'era la tesoreria del comune. L'esplosione ha interessato anche due appartamenti vicini, uno messo in vendita poco tempo fa, per cui disabitato, e l'altro occupato da una signora anziana che fortunatamente ieri sera era assente. I banditi hanno agito in pochi minuti, utilizzando una quantità di esplosivo un po' eccessiva, tanto che l'esplosione ha distrutto le cassette delle banconote e disperso a terra parte del contenuto. Quando i militari della stazione del paese, coordinati dal maresciallo Meduri, sono arrivati sul posto, hanno recuperato circa 4.500 euro. Il Bancomat, infatti, era stato alimentato due giorni prima con 30.000 euro, ma considerando alcuni prelievi e quelli che è rimasto a terra, i malviventi potrebbero aver racimolato poca cosa. Alcuni testimoni parlano di un'auto di colore scuro, forse un Audi, fuggita a tutta velocità. Le telecamere di videosolveglianza del locale non sono state oscurate, quindi potrebbero fornire elementi importanti per l'individuazione dei banditi. Grazie